Senza lavoro, con due figli da mantenere, è una scelta estrema da fare pensando solo alla sopravvivenza. Un romano di 56 anni, incensurato, si è introdotto ieri nella filiare della Banca Popolare di Novara di via Santa Maria del Buon Consiglio, zona Porta Furba. Qui ha minacciato il vice direttore con una pistola, rivelatasi poi essere un'arma giocattolo sprovvista del tappo rosso, per farsi consegnare il denaro delle casse. Senza sapere però che in quel momento non c'erano soldi liquidi disponibili. A quel punto è fuggito e 20 minuti più tardi ha fatto irruzione in un'altra banca, la CARIM di Piazza Red di Roma. E con le stesse modalità è riuscito a farsi consegnare oltre 2.000 euro in contanti da una cassiera, fuggendo nella metropolitana linea A col Bottino. L'uomo è stato fermato poco dopo dai carabinieri del nucleo operativo di Roma, sulle scale della fermata Sub-Augusta. L'area furtiva è stata recuperata e restituita, mentre per il 56enne sono scattate le manette ai polsi con l'accusa di rapina aggravata continuata. L'uomo in caserma ha infatti confessato ai carabinieri anche altre due rapine commesse nei giorni scorsi in altrettante banche di Centocelle e Torpignattara. Il tutto dettato dall'indigenza in cui versava da mesi a causa della perdita del lavoro. Grazie. Grazie. Grazie.